15 dipendenti mandati in cassa integrazione nel 2012 per via dell'improvvisa chiusura dei suoi punti vendita dopo ben 38 anni di attività. Un fallimento causato a suo dire dai troppi debiti con le banche, ma che oggi viene smascherato mostrando le sue reali cause. È di bancarotta fraudolenta in concorso l'accusa che pende sull'ex presidente di Confcommercio ed ex vicepresidente della GESAP Roberto Elg. Insieme a lui, come riporta Repubblica Palermo, indagati nella stessa indagine anche il fratello Fulvio e la figlia Cinzia. L'inchiesta prende il via dal fallimento delle due società GRSRL e Frigideire SRL nell'ambito della gestione di negozi di cristallerie, argenterie e arredamento per interni ed esterni. Aziende di cui Elgher è amministratore di fatto e componente del consiglio di amministrazione. Fiumi di denaro, infatti, risulterebbero essere usciti dalle società tra il 2009 e il 2012, che contavano su un capitale sociale di 50.000 euro prima di dichiarare il fallimento. Non riusciremo più ad andare avanti, avrebbe dichiarato l'ex presidente di Confcommercio, motivando ai lavoratori la chiusura. Abbiamo debiti con le banche per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Già in passato, inoltre, l'ex presidente di Confcommercio era stato indagato e arrestato per estorsione e concussione. Grazie.